Fratelli d'Italia ha deciso di non votare per la riconferma di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea. Siamo rimasti coerenti con la posizione espressa nel Consiglio europeo di non condivisione del metodo e del merito. Questo ovviamente non comprometterà la collaborazione che il governo italiano e la Commissione europea hanno già dimostrato di saper portare avanti su molte materie, come ad esempio la materia della migrazione e voglio approfittare per fare gli auguri di buon lavoro comunque a Ursula von der Leyen. In ultimo, non ho ragione di ritenere che la nostra scelta possa in alcun modo compromettere il ruolo che verrà riconosciuto all'Italia nella Commissione europea. L'Italia è un paese fondatore, la seconda manifattura, la terza economia d'Europa, con uno dei governi più soliti tra le grandi democrazie europee ed è sulla base di questo e solo di questo che si definisce il peso italiano. Grazie.